Prova 30 Ricevuto danni di una distanza Prova di collegamento, passo Da Gladiator, prova di collegamento, passo Macho ad Alfa Whisky, si distrugge l'intermittente, si aggiorno su Europa fronte, attualmente Nord-Ovest, 1-7 Giuto Alfa Whisky, Alfa Whisky da Gladiator, forza Si chiama Alfa Whisky, avanti Qui Gladiator, interrogativo, se puoi farci una ponte con biking per farci effettuare una prova di collegamento sulle nostre salde, posso? Gladiator, da Alfa Whisky, ti sento intermittente Versano di attendere che Europa fronte sia di sano, dopo di che continueremo le prove Alfa Whisky da Gladiator, negativo, sei disturbato, ripeti messaggio, passo Alfa Whisky da Gladiator, negativo, ripeti messaggio, passo Macho ad Alfa Whisky Alfa Whisky, qui Gladiator, passo Alfa Whisky, si aggiorno su Europa fronte, attualmente 5, morto, riportami quando è titano Chiudo Alfa Whisky, Alfa Whisky da Gladiator, forza Alfa Whisky, Alfa Whisky da Gladiator, forza Alfa Whisky, qui Mike, ti comunico, Europa fronte, diventato titano, passo Alfa Whisky, ho accro a passo Alfa Whisky, il titano per Europa fronte, ha ricevuto Alfa Whisky da Gladiator, giudo 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 Alfa Whisky, qui è arrivato, ripeto Alfa Whisky da Gladiator, rispetto a passo Grazie a tutti